Il 1973 è un anno povero di grandi eventi in Italia, intendiamoci povero relativamente. Diciamo che ci sono più fatti internazionali a catturare l'attenzione di stampa e lettori, per esempio la fine della guerra del Vietnam, o meglio l'abbandono del Vietnam da parte degli americani, ma anche la guerra del Kippur o il colpo di stato in Cile. Il golpe di Pinochet poi ha delle conseguenze indirette significative. Nella politica italiana basti pensare al compromesso storico che ne è appunto figlio, ma di tutto questo e di molto altro parleremo dopo la sigla. Patria, a cura di Matteo Cirillo Il 1973, come anticipato nell'introduzione, si apre con un fatto sconvolgente. I Stati Uniti, il 27 gennaio, decidono di ritirare le proprie truppe dal Vietnam. La guerra, che si darà due anni dopo con la conquista di Saigon, rappresenta la prima e finora più grave sconfitta militare degli americani, che in Indocina avevano portato 3 milioni di soldati. I morti vietnamiti sono, secondo le stime, un milione e mezzo, quelli americani 58.226. Ora, oltre ad essere una grande disfatta dal punto di vista militare, la sconfitta americana arriva dopo anni di proteste giovanili che si erano diffuse in tutto il mondo, ed in particolare proprio negli Stati Uniti, che, diciamo, prima di perdere in Vietnam avevano perso proprio a casa loro. Ora, torniamo in Italia e non dimentichiamo in che anni siamo, perché le lotte operaie continuano e lo fanno in particolare a Torino, dove c'è uno stabilimento Fiat, quello di Mirafiori, che da qualche puntata è al centro del nostro interesse. Si tratta del più grande stabilimento industriale d'Europa, che dà lavoro a decine di migliaia di persone e, incredibilmente, a marzo viene occupato. Gli operai, che chiedono un nuovo contratto nazionale per i metalmeccanici, organizzano tutto al meglio, anche grazie alla, diciamo, più giovane generazione di lavoratori, che sono, citando il libro Orda d'Oro di Nanni Balestrini e Primo Moroni, scolarizzati e formatisi nel clima delle lotte studentesche e delle esperienze aggregative di quartiere. Quindi, appunto, vediamo come, torno a parlare io, lotte studentesche e lotte operaie si uniscono. Dopo sei giorni in cui non c'è stato alcun incidente, il contratto di lavoro viene firmato. Si raggiunge un inquadramento collettivo. Si annullano, cioè, le disparità di trattamento, sia dal punto di vista salariale che dei diritti, per lavoratori che svolgono la stessa funzione in qualsiasi parte d'Italia. Nottengono anche un aumento di stipendio, quattro settimane di ferie per tutti, una diminuzione delle ore di lavoro settimanali per gli operai impiegati nel settore siderurgico. Insomma, è una grande vittoria. Negli stessi giorni a Palermo succede una cosa strana. Alla questura si presenta Leonardo Vitale, proveniente da un'importantissima famiglia mafiosa, e descrive al vicequestore l'organizzazione di Cosa Nostra, facendo nomi che all'epoca sono sconosciuti, ma che in futuro diverranno famosi come Totorrina, Vito Ciancimino, Pippo Calò. Ora, nel 73 siamo 13 anni dopo la pubblicazione del giorno della civetta, eppure pochi ancora credono nell'esistenza di questa mafia, o almeno fanno finta. I nomi che direi in ballo vitale sono poi scottanti. Pensiamo a Ciancimino, che è stato sindaco di Palermo, e chi può credere che abbia avuto rapporti con organizzazioni criminali. Insomma, non soltanto non vengono aperte indagini, ma addirittura Leonardo Vitale viene portato in manicomio e sottoposto a elettroshock. Il ragazzo poi, prima di andare in questura, si era confidato con un cugino, e questi viene ucciso. Vitale, invece, dal manicomio viene trasferito al carcere, dove uscirà nell'84. Ora, sono passati 11 anni, ma qualcuno ce l'ha ancora con lui, che è il primo pentito, il primo collaboratore di giustizia, tanto che di lì a poco verrà ucciso a colpi di Lupara. Spostandoci più a nord, a Milano il Movimento Sociale e Ordine Nuovo stanno organizzando degli attentati. Dovranno avvenire in aprile e, soprattutto, dovranno essere attribuiti dalla stampa e dalle forze dell'ordine ai comunisti, un po' come è successo negli anni passati, per esempio per la strage di Piazza Fontana, anche se in quel caso venne serializzata da neofascisti ma attribuita agli anarchici. Il primo treno scelto per l'attentato è un Roma-Torino, del 7 aprile. Sul treno ci sono dei giovani che, cercando di farsi vedere e così sospettire i passeggeri, leggono Lotta Continua, giornale di estrema sinistra. In realtà si tratta di neofascisti che, come ho detto, vogliono far ricadere la colpa sui comunisti. Uno di loro, Nico Azzi, va in bagno dove piazzerà il tritolo, ma qualcosa va storto, insomma, fatto sta che il detonatore esplode tra le sue gambe, ferendolo gravemente. Gli altri suoi compari scappano. A Nico Azzi poi viene trovata la tessera del movimento sociale, insomma, l'attentato è fallito. Nel frattempo, allentando un po' l'attenzione, la Juventus vince lo scudetto, soffiandolo al Milan all'ultima giornata. Cancogni vince il premio strega e al cinema escono Amarcord di Fellini, la grande abboffata di Ferreri e vogliamo i colonnelli di Monicelli. Ora, è il momento di andare all'estero. In Cile è al governo dal 70 Salvador Allende, del Partito Socialista, che ha vinto le elezioni con uno scarto piccolissimo, è arrivato al 36%, mentre il Partito Nazionale di stampo conservatore al 35. Per formare il governo Allende si è alleato anche con la terza forza politica, il Partito Democratico Cristiano. Il suo mandato dovrebbe durare sei anni fino al 76, ma, come vedremo ora, terminerà prima. La situazione nel 73 è disastrosa. Allende aveva realizzato nei suoi pochi anni di governo varie nazionalizzazioni, vari spropri, oltre che riforme del sistema scolastico e di quello sanitario. Fatto sta che si è rinimicato quasi tutta la borghesia cilena, che già da prima poco si fidava di un socialista, ma gli ha voltato le spalle anche il Partito Democratico Cristiano e all'inizio del 73, causa una grave crisi economica, a scioperare sono anche alcune categorie che rappresentano le fasce più povere della popolazione. Il 29 giugno viene tentato un golpe, che però fallisce. L'11 settembre, invece, il golpe va in porto. Ad organizzarlo è stato Augusto Pinochet, capo dell'esercito, carica a cui era stato nominato neanche un mese prima dallo stesso Allende. Con Pinochet ci sono anche il capo dell'aviazione, quello della marina e quello dei carabinieri, che insieme formeranno la giunta militare, al cui vertice c'era lo stesso Augusto Pinochet. Il Palazzo della Moneda, cioè il palazzo presidenziale, viene accerchiato e bombardato l'11 settembre e a questo punto Allende si suicida. Pinochet, che l'anno successivo sarà nominato presidente del Cile, resterà al governo del paese per oltre 15 anni, instaurando una dittatura militare che, come ogni dittatura militare, farà sistematico uso della ripressione violenta degli oppositori. Gli arresti, le sparizioni e le uccisioni che il regime fece sono incalcolabili. In Italia il golpe ha importanti ricadute. Tutti i giornali, comprensibilmente, dedicano all'evento la prima pagina. Vengono accolti poi centinaia di oppositori al regime e vengono intitolate strade, scuole ad Allende. Ma la conseguenza più importante è la nascita del compromesso storico, ovvero quella strategia teorizzata da Berlinguer sul modello di Allende di realizzare un governo di coalizione tra Partito Comunista e Democrazia Cristiana. Questo sia per, a livello base, andare al governo, anche perché il Partito Comunista senza l'ADC non ce l'avrebbe fatta, ma anche per evitare i rischi di un colpo di Stato, di una dittatura militare. Vedremo comunque in seguito come il compromesso storico avrà vita breve. Spostandoci a Est e avviandoci alla conclusione, il 6 ottobre Egitto e Siria attaccano Israele. È il giorno per gli ebrei dello Yom Kippur, cioè dell'espiazione, del pentimento e l'ultima cosa a cui sono preparati è un attacco militare. Così all'inizio Israele viene messa in seria difficoltà, ma il vantaggio preso dall'Egitto e dalla Siria verrà perso nei giorni successivi. La più importante conseguenza è la crisi energetica. L'OPEC, l'organizzazione dei paesi esportatori di petrolio, che fa capo all'Arabia Saudita, che si oppone Israele, decide di diminuire la produzione di petrolio, alzando quindi i prezzi, in modo da punire Stati Uniti e le altre nazioni filo-israeliane. Di conseguenza misure di razionamento energetico vengono adottate in Mezzomondo e anche in Italia. Ora, chiudere con la guerra dello Yom Kippur non mi sembra il massimo. E allora torniamo per un attimo in Italia con una legge che il 29 dicembre, siamo in questo periodo, viene votata all'unanimità, cosa che accade assai di rado. Ebbene, sarà stato il clima festivo del tempo, sarà stato qualcos'altro, chissà, insomma, fatto sta che viene approvata appunto una legge che permette ai dipendenti pubblici di andare in pensione con pochissimi anni di contributi. Ci sono le donne con figli che vanno in pensione dopo 14 anni, gli altri statali dopo 20, dopo 25 per chi lavora negli enti locali. Insomma, per chi beneficerà della legge, questo sarà un paradiso, ma per lo Stato e per i futuri contribuenti, tra cui ci siamo anche noi, sarà un disastro. Con questo regalo, tra molte virgolette, vi saluto, noi ci sentiamo al prossimo episodio. Avete appena ascoltato Patrie, a cura di Matteo Cirillo. Al prossimo episodio, sempre qui sul mi capote. Ciao!